Un altro francese a Milanello. Io ricordo tanti francesi importanti con Ben, Dugarry, Papin. Ecco, quando tu sei entrato per la prima volta qui a Milanello, quali sono state le tue impressioni? Premier sensation. Le prime sensazioni erano l'orgogliosa che avevo di firmare per il grande Milan perché ero un tifoso del Milan e anche perché i francesi che hanno giocato qua eravano forti, avevano fatto bene, molto bene. Avevano vinto tanto. Sì, come Jean-Pierre Papin, lui è uno dei miei preferiti giocatori. Voglio parlare un attimo, sono andato a vedere un po' la tua storia, incredibile, una storia calcistica piena di avventure. A 24 anni, 24, tu non avevi ancora giocato nella Liga. Cosa ricordi di quei primi anni di calciatore? Allora ho firmato a Montpellier quando avevo 23. in agosto. E sì, ero tanto fiero di giocare per la Liga 1. Io avevo l'opportunità, dopo aver finito il migliore butto di Liga 2 con Tours, di giocare per la Liga 1 o anche per la Liga 1 o anche per la Celtic Glasgow. E mio sogno è sempre stato di giocare un giorno per la Liga 1. E quindi ho esito, perché c'è Montpellier d'un côté, ma anche per la prima Liga. Ma ho detto a questa epoca che bisognava giocare in Liga 1 e che lasciare una traccia di me in Liga 1. C'è per questo che ho chiesto Montpellier a questa epoca e non ho regretto perché ho vinto due anni fantastiche. ho letto che tu hai detto una volta, io non sono arrivato prima nella Liga 1 perché ero troppo gentile, ero troppo cerebrale e il calcio è una giungla. Non so, io ho letto nella tua storia questa frase. Non lo so, ma non ero pronto magari a… penso che ogni giocatore… ha bisogno di prendere il suo tempo per arrivare al top e io sono fiero dei miei passaggi che ho fatto nel diversi club prima di firmare in Liga 1 per Montpellier. Ho molto appriso e ho grandi in questo club. Ho molto progressato in quanto giocatore ma anche in quanto giocatore. Sarà perché per me era la buona… la buona opzione di firmare per Montpellier con Ronny Girard, un allenatore che… che ha fatto bene con i giovani e anche avevamo una buona alchimia tra i giovani e i più esperimenti giocatori. ero tra i giovani e i vecchi ma abbiamo fatto molto bene, abbiamo vinto la seconda stagione, il campionato contro la prima… col pari? contro pari che era già il primo anno… il primo anno del Qatar. certamente, era appena arrivato Carlo Ancelotti e il Montpellier… si, si Carlo Ancelotti era il allenatore. allora pochi sanno e io vi rivelo perché Giroud sa segnare i gol in acrobazia. perché? Perché lui ha studiato… poi ci dirà che università, che facoltà ha fatto… ma in università ha anche studiato danza e qualcuno dice che ha studiato e appunto ha preso dalla danza quel suo modo particolare di segnare in area. È una leggenda o è una verità? sì, magari sarà perché ho fatto il scorpion kick con il national… sì, bravo, tutto questo nasce perché lui ha spiegato, ha realizzato un gol con lo scorpione, lui cade in avanti e mette la gamba dietro e ha detto, è certo, io ho studiato danza. sì, perché magari mi aiuta ad avere la balanza… sì, certo… e la flessibilità… sì, sì, la flessibilità… la flessibilità, ma no, sto scarzando… è bello la leggenda… sì, 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 la leggenda, ma era… ho studiato… ecco… sport sciences… ah, ho capito… a oggi siamo, mi sembra, a facoltà motorica… esatto, esatto… all'università… scienze motoriche… quando ero professionale a Grenoble… certo… ma volevo ancora studiare a questo tempo perché… avevo l'opportunità di fare la mattina… sì, le due, la mattina allenamento con i professionalisti… certo… pomeriggio libero… e… pomeriggio libero per studiare… allora era anche per incontrare… la gente di differenti orizzonti… certo… non sempre nello stesso ambiente… sì, sì… era bene per open mind… certo, per aprire la mente… sì… scusa, ma devo chiamarti dottor… no, no, no… ho fatto solo due anni… e… sì… quando ho fatto… quando ho studiato qua… ho fatto… un'ora di… danse contemporanea… ok… allora… la leggenda… la leggenda… senti… a proposito di leggende… poi andiamo anche sul calcio… ma io ho visto delle cose molto carine… mi dicono che in casa tua… con i tuoi fratelli… i tuoi fratelli… e il tuo amore… venivi chiamato… chossette… 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 perché… chossette… che ha visto il balla con i lupi… era calzino… c'era un lupo che veniva chiamato calzino… spiegami questa cosa di chossette… che chossette vuol dire calzino in francese… no… due fratelli… più vecchi… sì… di me… e una sorella… ma i fratelli eravano… un po'… scherz… amavano giocare… scherzare… e mi hanno dato tanti… soprannomi… 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 e questo è perché io… occhi… come… un po' come… come un lupo… ah… come un lupo… così… e… da questo momento… tempo… loro mi hanno… chiamato… chossette… tu hai scritto… hai una scritta… eccolo là… se la puoi far vedere… dominus regit me… et ni mi deirit… il Signore mi governa… non mi mancherà nulla… che significato… perché questa frase… sul tuo braccio… si… non lo so come si dice in italiano… è della… della Bibbia… della Bibbia… ma è del Psalm… Psalm 23… si… si… esatto… si… che… che… dice che… God is looking after me… come tu… hai detto… e questo… volevo… marcare sulla mia… pelle… pelle… la… la… la mia condizione… della… la mia fede… capito… e… molto importante… per me… e… quando… ero vent'anni… volevo fare il tattoo… e… ho… ho parlato con la mia mamma… e… quindi tanti anni che ce l'hai… si… 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 quindici… quindici anni… e… ho detto a lei che… volevo fare questo… e lei ha pensato… prima che… tatu… tatu… non mi piace… ma… se tu fai così… se tu fai così… e tu… tu… tu scrivi… tu scrivi… una frase importante… e della Bibbia… va… vai… quello che io… stessa cosa… mia figlia non vorrei… che la mettesse… ma mia figlia… non mette frasi bibliche… eh… va bene… pazienza… pazienza… maturità… poi… passano gli anni… ti affermi… e sei diventato protagonista… della nazionale francese… i famosi… Le Bleu… che vince il mondiale… che cosa hai provato quel momento… cosa hai pensato… hai pensato a quel ragazzo di Tour… di Grenoble… che significato ha avuto per te? quando ero piccolo… ho parlato con i miei… amici… ero magari… dieci… undici anni… certo… e loro… ho detto a loro… guarda… un dia… a quella… un giorno… scusa… un giorno… vado a vincere… il mondiale… ah ecco… era il sogno… di tutti i bambini… e lui… mi ha ricordato… il giorno… prima… la finale… ah ecco… ricordati… Oli… tu hai fatto… non la promessa… la promessa… ma… il tuo sogno… il re… si… il sogno… e allora… e dopo… era un sogno… dopo… non sei più giovanissimo… vinci il mondiale… è difficile adesso… trovare stimoli… hai avuto paura… di dire… no… si… il giorno dopo… vincere il mondiale… è difficile… di ritornare… a lavorare… un mese… un mese dopo… di fare ancora… ancora… la competizione… di andare ancora… ancora… ma… una frase… che… mi aiuta… e che è molto importante… per io… è… il… il calcio… il football… è un eterno… recommencement… è un continuo inizio… e… sarà perché… la determinazione… eh… che… ho festeggiato… con gli amici… la famiglia… ma… dopo… ho… ho messo… ancora… il… il… sì… certo… per andare ancora… ancora… per… eh… con determinazione… di vincere ancora… più… trofe… eh… 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 sì… perché la… la carriera del giocatore… è troppo… corta… corta… allora… non ci si può mai fermare… no… mai… mai mollare… mai mollare… e lì… dovresti trovare bene con Pioli… perché Pioli ha una caratteristica… tu fai la domanda… dopo una grande vittoria… e lui ti dice… dopo un po'… dici… sì… ma stiamo già pensando alla prossima partita… sì… e magari alla predefinita… ecco… a proposito di Pioli… io… tu sai… sei stato allenato da una leggenda… Arsene Wenger… che differenza tra i due? ci sono cose unite… e diverse? eh… sì… loro sono diversi… ehm… ehm… perché… Arsene Wenger… era una… un allenatore… molto… ehm… con molta esperienza… sì… e… qualcuno di… tanto… calmissimo… calma… calma… così… lui… mai… raramente… si… 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 si urlava… si urlava… si urlava… no… il mister… qua… ehm… per fare le… le cose… buone… giocare… giocare il nostro… calcio… calcio… lui… ha… tante… passione… tante… passione… non lo conoscevamo… ha temperamento… si… 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 e… per dare… a noi… la… 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 Sono molto diversi ma mi piacciono le due personalità di loro. C'è una cosa che unisce Olivier Giroud e Pippo Inzaghi, non solo per la classe, la qualità, il gol, il fiuto del gol, l'abilità in area, perché Pippo Inzaghi sapete che cosa lo unisce? Una volta Giroud ha detto, solo i numeri restano, perché poi alla fine si parla ma quello che conta è la statistica. Era quello che diceva Pippo Inzaghi, che faceva finta di non sapere, ma si ricordava il primo gol, quanti gol aveva fatto di test, eccetera. È vero che solo i numeri restano, il resto sono parole. L'almanacco. Per un attaccante i numeri sono molto importanti e valutati sui numeri e allora è quello che ricordiamo alla fine della stagione. Ma anche voglio aiutare, non sono qualcuno di selfish, egoista, voglio giocare per la squadra anche. Lo so che oggi, 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 è troppo importante per una squadra di avere un attaccante che fa le cose che la gente non vede. Certo, il famoso lavoro che noi chiamiamo lavoro oscuro, in ombra. Sì, sì, in ombra. E anche il pressing, fare le course per liberare gli spazi. Sì, è una cosa più grande che solo i numeri, ma alla fine io guardo i numeri e la gente anche. Allora, sì, guardiamo i numeri. Ibrahimovic, era un tuo idolo. Come lo trovi? Giocare insieme a lui, che cosa vuoi dire? Ah, idolo, non mi piace questa parola perché il mio idolo è Gesù, Gesù quasi. Ma lui era, sì, come tu sai che lui era un giocatore che mi piace, ma mi piaceva. Prima di venire qui ho letto la storia di Giroud e ho letto che lui ammirava, quindi non gli do la ragione, ammirava Shevchenko e Ibrahimovic. Sì, sì, è vero. Ma non ho detto a lui… Non gliel'ha ancora detto? No, no, lui dopo scherzano troppo… Rimanga allora in questa intervista tra di noi. Sì, sì, sì. Senti, ma i tifosi… scusa, scusa. No, no, quando ero vent'anni e ho cominciato a giocare, diciannove, vent'anni a giocare il calcio… Sì, a livello professionistico. Sì, a livello professionistico, certo. A livello professionalista. Ma i miei amici mi hanno regalato la maglia e penso che ancora oggi io… Pensa quando andrai a dire, scusa Ibra, mi firmi questa maglia, ma non è la maglia del Milan, ma è una vecchia. Sì, sì, magari sì. Può essere un'idea. I tifosi del Milan hanno già visto il vero Giroud. Io sono andato a vedere tutti gli amichevoli, straordinari, poi hai avuto dei problemi. Hanno visto il vero Giroud? Sì, penso che abbiamo visto il vero Giroud, ma lo so che posso fare ancora di più per aiutare la squadra. Adesso voglio giocare di più. È il mister che fa le scelte. Ma voglio… Sono pronto. E una cosa più importante… Stare bene. Io sto molto bene fisicamente e nella mia testa sono pronto a realizzare i nostri oggettivi e lo so che ho bisogno di fare ancora di più e di insegnare più e di assistere più. Ancora due o tre domande. La prima, credete allo Scudetto? Sì, certo. Certo. Perché abbiamo una importante partita contro l'Inter. Se vincere, penso che abbiamo una buona opportunità di essere qui alla fine. e sarà perché la partita contro l'Inter sarà molto importante. Mi ha evitato una domanda sbagliata perché gli volevo fare questa domanda. Lui ha giocato a Montpellier e c'è una rivalità tremenda. Le partite a volte vengono interrotte. Tra il Nîmes, una città lì vicino a Montpellier, e Montpellier. Parliamo del sud della Francia. Mi ha detto, no, purtroppo non ho mai giocato. Allora te ne faccio un altro. Arsenal-Tottenham, tu come vivi? Parli con un tifoso degli Spurs, eh? Come vivi queste sfide, questi derby? Ah, questo derby, io ho segnato il primo derby che ho fatto contro Tottenham. Quindi sto soffrendo, esatto. Sì, abbiamo vinto 1-0 e ho segnato. Mi ricordo che era una cosa troppo importante per i tifosi di Arsenal. Sì, sì, ho segnato e mi sono sentito... Le senti queste partite? Sì, sì, sì. Era una speciale partita anche perché Ugo Loris, il mio amico... Sì, sì, era portiere là. Sì, sì. Segnia Dandanovic. Non gioca nella tua Nazionale. Va bene, va bene. Ultima cosa. Qual è il tuo sogno, il tuo obiettivo per questo 2022? Oltre che portare il Milan più avanti possibile. Ma sul piano personale hai qualche obiettivo? Per esempio, non voglio farti togliere il sorriso. La Nazionale è ancora lì che vuoi mettere in difficoltà Deschamps? No, il mio primo obiettivo è di vincere in Scudetto con il Milan. Dopo, le cose che arriva vanno dopo, le conseguenze sono solo bonus per me. Io ho nella testa solo il Milan e la mia famiglia. Quindi chiudiamo molto facilmente con un buon chance. Grazie mille. Grazie.